Vado ad andare via, andiamo qua un dia, il prossimo è la pista di decoro, mi dispiace che vi abbia fatto aspettare ai piri dell'Aerobano, purtroppo ce l'hanno lasciato in conoscenze non troppo accettabili per un'immediata infatto, quella che è avvenuta in autonomia, la tiratoria, aggiustare ancora il più possibile, siamo pronti per i blasi per un volo di 1.35, il tempo rotta, a nostra cosa sarà buono, e un gioco sia qua che a Londra, c'è il percorretto a 9.00 a.m., era senza avvenzione. Per esempio, in Indonesia, avveniamo che rilassare qualcosa di buono, ora troviamo il nostro paese per il nostro paese, il nostro paese è stato un paese di 4.00 a.m., la temperatura è 9.00 a.m., grazie per la stagione, il drivolo preparato al decollo Guglielmo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.